Non puoi uscire, non puoi uscire, ma perché dà? Sei a rischio, c'è il virus fuori. Che c'è? Il virus. Ma va a fare un po' di noi, non è un virus, non mi piace niente. C'è il virus? E va bene, non puoi uscire perché stai sola, perché se nasceva, perché è un virus non mi piace. E perché tu sei? Io già ancora un giorno non sono mai ammalata. Quando ne è riuscita a me mai niente, perché i corpi, sai come cazzo mi ha detto il dottore. Cioè i corpi? Il dottore, ma io ti ho detto, perché io ti ho detto, a te non mi piace la febbra, ma l'ha detto in un cazzo modo non mi racconta. Gli anticorpi, non i corpi? Piacere. Gli anticorpi buoni mi ha detto. Eh? Tornata, grazie. Tornata, grazie. Tornata, grazie.